Raccolta differenziata e fondi del PNRR. Un fallimento in Abruzzo. Il centrodestra nasconde la sconfitta festeggiando a gran voce le bricele ottenute circa 10 milioni di euro su ben 600 disponibili. Le parole sono del vice presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari che evidenzia il risultato raggiunto circa l'1.6 per cento dei progetti presentati. La linea sulla raccolta differenziata che riguarda ampliamento di impianti già esistenti ma non solo meccanizzazione quindi tutto ciò che riguarda la raccolta differenziata. La linea per il centro sud 600 milioni di euro a disposizione udite udite regione Abruzzo su 100 progetti presentati in regione Abruzzo solo 15 approvati tra cui la città di Pescara quattro progetti presentati quattro bocciati quindi un dramma veramente. La regione Abruzzo tramite l'ERSI ha presentato diversi progetti anch'essa tutti bocciati se li è visti tutti bocciati quindi una regione Abruzzo che si fa bocciare i propri progetti come può offrire consulenza e supporto ai comuni. Non basta dire che va tutto bene per far andare tutto bene in calza Pettinari. La situazione disastrosa in cui versa l'Abruzzo dopo quattro anni di giunta a Marsiglio è sotto gli occhi di tutti e ancora una volta la propaganda di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia è smentita dai fatti. Abbiamo trovato che nella luica provincia di Chieti un po' ha avuto dei progetti approvati ma non solo su 600 milioni di euro su 100 progetti presentati solo 15 approvati in regione Abruzzo penso che sia il disastro più grande mai visto nella storia della progettazione in regione Abruzzo. La cosa si aggrava ancora di più se si pensa che il regione Abruzzo ha assunto dei consulenti, ha preso dei consulenti proprio dedicati alla progettazione del PNNR. Sono risorse che una regione come l'Abruzzo avrebbe dovuto assolutamente intercettare. Rimarca ancora Pettinari per adeguare il proprio sistema di gestione dei rifiuti visto che molte realtà territoriali si trovano indietro nella raccolta differenziata. Qualche numero? Pescara è ferma al 47.68%, Montesilvano al 35.04% e l'Aquila al 39.03%. Quindi se si perdono fondi, si perdono soldi su una materia così importante che è quella della raccolta differenziata io credo che non ci siano più scuse. Poi un governo di centrodestra regionale che si fa bocciare dal suo stesso governo comunque dei progetti è ancora più grave.